Il tuo amore bella croce e la nostra identità. La passione del Signore resta bene come ci equita all'amore e alla eternità. Prima di ogni altra cosa vi raccomando la carità come Cristo amato gli uomini. Anche il vostro cuore accolga ogni fratello nel nome di Dio e vivrete la fraternità. Il tuo amore bella croce è la nostra eredità. La passione del Signore è la nostra eredità. La passione del Signore è la nostra eredità. Poi mi esorto alla preghiera e alla solitudine, ma allo spirito di povertà e così facendo voi risplenderete al cospetto di Dio e sarete luce per il mondo. Il tuo amore bella croce è la nostra eredità. è la nostra eredità. La passione del Signore è la nostra eredità. La passione del Signore è la nostra eredità. ora è la nostra eredità. La passione del Signore Sotto il manto di Maria, Vergine, Madre di Dio, io ripongo voi, o figli, lei che ha promato i dolori della passione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.